Dovresti challengeare perchè io non ho boost Calcolato Calcolatissimo Ah ma siamo 6, 6 BAMPA 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 Il portiere Ma io è dalla prima Madonna cosa ho sbagliato È dalla prima volta che ti ho visto Davids che ho detto che Ti metterai sotto contratto Ti farei fare il contratto per Exceed Mi supera vero? Ok ma è tutta tua Tutta tua Ma baci però E non ci va E non ci va La sbrega fioi bella Non ci va eh Ok Aspettiamo un attimo il tocco Prendiamo questo bustino qui Saltiamo per il tiro Grande Reu Dai Amatti Dai e dai Potrei uscire ma fare un po' di fatica Più che altro Volevo un attimo cercare di capire cosa stavano facendo Ah la vedo dura questa Buono Che culo Pecchiato Non posso andarci Ne ho prendo il busto qui dietro e dovrei spawnare Ora tu dovresti challengeare perchè io non ho boost Eh si va in due Questo succede Se no Buono ancora Bravo Bang Peccato Ho provato a vinciarlo Mi ha fatto venire una bioc Bela Dani Macchina migliore al momento per te Non c'è una macchina migliore Dipende dalle mani Dipende dalle mani E da come ci si trova con una Con una macchina Non esiste una macchina migliore o peggiore Chi lo dice perchè ve ne vuole vendere una Ho visto semplicemente Ok Stavo per fare gol comunque Autogol Buono il tocco Però qui non lo posso seguire Invece si Ma Perchè questo qui è andato a funghi Tipo e ha lasciato la porta scoperta Nell'ultima parte della live al pomeriggio la metto No in realtà in generale Nell'ultima parte delle live Quando facciamo una bella Come dire Giriamo prima tutto a vc E poi finito a vc Alla terza volta Si ascoltano i tweet Oh Calcolato Calcolatissimo Tra l'altro Potrei scrivergli la stessa cosa Per quanto riguarda la sua grammatica Ma in ogni caso Si Ha ragione Ok Ok Ma le mani che Che te le ha mandate Eeeh Tu Tu me le hai mandate money Reo è il digno Esatto Hai cambiato cam? No è sempre uguale Bel tiro Spero ce l'abbia Nice Fake No Codo Mamma mia No Fake Fake No Ecco perché non so giocare Ho le tue Crevissima questa cosa money Quindi si è liberato un altro spazio per il mod Da quelli che sto capendo Ok Bang Bang Guarda che me la passa Andiamo a prendere questo beast qua Come l'ha preso lui Bastardo Tu che l'hai fatto? Ho fatto un istituto tecnico Ok Ma perché mi chiedete ancora Stacchi la live Ma Se godetevela finché c'è Si Bravissimo Oh Vabbè fai schifo No scherzo Eeeh Ma come cavo fai a volare così bene? Io bene Volare bene Dove? Con che occhi me lo stai dicendo? Mid Niente Bella Snorky Bella Naimi Bello questo flick Lo vampiamo un pochettino Lo vampiamo di nuovo Guarda se ti distruggo anche a te Mi vedete Volevo prenderlo Ma vabbè Meglio così Volevo un attimo trovarla Buono Esco GG Da che ora inizia la live vera Non sono un appellatore Ah ho capito Ho capito Beh ci sta Era da tantissimo Non ci andavo Da novembre Da novembre Infatti di nuovo Sono distrutto Eh vabbè Questo è gol per forza E se lui dice Reu È così Era il fake grosso Era un fake normale Ma era veramente È il fake migliore Che puoi fare da lì È l'unica cosa migliore Che puoi fare Fakeare Perché ha messo in una posizione È veramente bruttissima Dove non può far nulla Se non subirlo praticamente Ah ho capito È un'accademia dove Ho capito Fico 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 Bello Muori Eh vabbè Bing Ciao Dov'è Dov'è Qui da me Qui da me No No Non riesce No Meglio non andare Anzi Anzi Buono Demo Ciao Adesso segniamo anche Che palle Ciao Franti Ti ringrazio Ti ringrazio Ti ringrazio Dovevo fare una domanda serissima Fammela su telegram Sono un depensante qua Buono Il challenge Ancora No Ho provato a tirare Di alla bassa Di malapresa Ok Non dovrò avere Tanto boost Questo Infatti è tornato indietro Prendiamo un po' di tempo Ma guardo Oh mio dio No no Non dono il boost No Non dono il boost In caraccia È sulla canta del pad Eh dovete guardare Il video su youtube Dovete guardare Il video su youtube Per scoprirlo No E se no Mai Subito 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 Penso domani O dopo domani Di farlo di mattina Giocare con il pad Con lo smartphone E vedere fino a che rank Arrivo al massimo Oddio Perché sono quelle più veloci È più veloce da giocare È meno Boh Sono più veloci La tua Il tuo singolo Può contare Molto di più Rispetto ad esempio Un 3v3 Perché tanto Non succede nulla Non ho boost io Non ho boost mate Ok Spero ce l'abbia Wow Cioè mi stai dicendo Che fa gol Con 0 di boost Wow Minchia Ci sta Ciao Vinas Roma Ti ringrazio Dani Gentilissimo Baccione Ronaldo Via dalla Juve Boh Ce lo deve dire Sniper ragazzi Sniper Parola a te Sipario A lei Che dice Ronaldo va via dalla Juve Leggi i messaggi di prima Adesso Davids Devo giocare Leggere 2000 messaggi Nel senso Io per quell'ora lì Finisco Quindi probabilmente Ti perderai tutte le live Ma in ogni caso Metto Puoi tranquillamente Seguire Tutte le avventure Su Youtube Visto che metto lì Gli estratti Ok Vampiamo Tutto il tempo del mondo Proviamo a demolire anche questo qui Bravo Va bene Ok Non posso più avercela Mmm Resci ancora? Eh Ok Non ho più tanto boost Il mio mede dovrebbe avercela Subito Tipo Ok Resci Buono Tempo Nice Minda Quanta pazienza Avevo letto Il colore Allora Senza nemmeno leggere il nome Siccome è solo Davids Che ha il colore verde Diciamo Ok Tutta tua Mate Ah ma siamo 6 6 Stavo Sistimo Perdendo Tipo di un gol Invece l'ho fatto io Il gol del pareggio Buono Madonna Mia mate Se non ci fossi andato Io Guarda Si è passato il gol Dai Buono Saliamo Saliamo Controlla No A terra Non posso mai andare lì Bella Yugami Proviamo a mettere A destra Per il mio mate Buono Tutto il tempo del mondo Guarda Devi far gol Si Bravo Sine Ok Vado io Vado io Vado io Boosti Ti prego Spawn Mate 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 Perché non ci vai Perché non ci vai Cazzo Perché non ci vai Buono Culo Godo Mate Subito Ok È messo malissimo Così qui prendiamo Un po' di boost Mate Bampa 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 Il portiere Oh mio dio Buono Ancora 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 Bravissimo Goal Nice Nice